dedicato Toyota RAV4, questo è il car tablet dedicato, in più abbiamo montato una dashcam anteriore che se la state vedendo, la dashcam posteriore con funzione retrocamera, addirittura quando mettiamo la retrocamera entra in funzione la dashcam come retrocamera, in più dato che abbiamo montato queste dashcam con gestione direttamente dal monitor possiamo accedere a tutti i file sia la telecamera frontale che posteriore, possiamo scegliere filmati frontale o posteriore e andiamo a rivedere tutti i filmati, questi sono i filmati mentre stiamo eseguendo l'installazione, cambiamo passiamo alla posteriore e andiamo a vedere altri filmati, come vedete questa è una soluzione che consigliamo, è eccezionale e in più abbiamo le solite funzioni, recupero comandi al volante poi abbiamo gestione android, possiamo eseguire anche lo split screen, maps e youtube in contemporanea abbiamo anche il car setting per tutte le funzioni della macchina, gestione audio e video tramite le usb, tutti i nostri prodotti sono disponibili per essere il nostro shop, un saluto a tutti voi